bello a tutti raga qui david cacote che vi parla e siamo tornati tornati stiamo facendo scusate siamo arrivati su gta 4 spero che vi piaccia questa serie boh vanno le cazze e partiamo dai tac tac salviamo se bene sta salvando vi ricordo siamo giuditi a 4 bene ci sdagliamo no bastardo pezzo di merda che cazzo vuoi coglione tutti fermi fermati ok brava che c**o di merda che c**a io gioco a dire la verità l'ho già incominciato e non vorrei proprio minimamente proprio non vorrei fare al cento per cento perché è una noia che vogliatelo molto bene vai 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 allora andiamo da Franklin e devo lasciare qui se non dico male ok scusate che c**o e mi dispiace ma i trucchi si devono usare perché se dobbiamo sapere la polizia cari è un casino della madonna però fanno più lungo che posso ovviamente che non sono come quelli che fanno più da due minuti e e da far e e la guanta, la guanta così anche per voi facciamo molto più valuta no, sono io bene ah, cazzo, per di qua, scusate sono un po' encoglionito questa qua per tutti gli episodi ma va a fa' culo questa qua vorrete tenerla per tutti gli episodi questa macchinina sono encoglionita a guidare, come vedete non è che sono strabravo bene andiamo siamo giusti? si comunque inganna ma sembra tra un po' qui sta fredda oh cazzo che culo non ho neanche disfatta con la polizia con la polizia lei lol che culo si è lasciata troppo le macchine stupendo no, non ce l'ha fatto un cazzo cazzo di merda dove doveva andare a pagare il carattere no puttana stupendo stupendo dai muoviti no 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 non non vi dimenticate ovviamente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale ma chi se ne fotte di fausti cazzo no 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 e dov'è lui oh cerco di fare perché mi stai mi sceglie un leonio è la verità quella di scegliere ma no 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 dove cazzo c'è il fausti ma chi cazzo? dove cazzo devo andare? ah ah ecco mi ero bloccato io stavo dicevano che non aveva capito la bandana tu che cazzo guardi? eh? cazzo guardi vai via vai via dove cazzo? ah è nel treno forse eh? cazzo ho capito il culo di te io a voi non parli coglionito di russo ecco dov'è mi ero bloccato io come un sceminito pezzo di merda che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo o cazzo? che cazzo? viene ti ho ammazzato che cazzo io vedo sempre questa visualizzazione che vedo mi legale oh cazzo no no Prova. Bene, andiamo da Roma Cazzo Bene Adesso siamo a Un Bene Bene Adesso Adesso C'è una No, 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 era una balla. Ma che cazzo? Riuscire a riuscire a farlo. Ah no, devo pagare a te che cazzo. Fa un culo. Sì, facciamo che buco. Mi facciamo. Sì. Sì, facciamo che buco. Per... Cazzo, figlio di troia! Dio, porco! Ok. Questa puntata è finita. Sempre questo giorno, forse. E arriverò a farvi un'altra puntata. Ok? Arrivederci. Bella a tutti, raga! Grazie. Grazie. Grazie.